Buongiorno ai nostri telespettatori, parliamo questa settimana dello sciopero che c'è stato venerdì scorso nella scuola e anche in altri settori, proclamato dai sindacati di base. Perlomeno nelle scuole del Canavese lo sciopero è passato pressoché inosservato. Un po' diversamente è andata a livello nazionale e soprattutto in alcune città dove Cobas, Unicobas, Cub e alcune altre sigle sono più attivi. È il caso per esempio di Napoli, Torino, Roma e Milano. Anche i confederali però, dopo aver visto le prime bozze della legge di stabilità, si stanno organizzando. Il segretario generale della UIL Angeletti ha già fatto sapere di essere pronto ad aprire un'avvertenza e a proclamare uno sciopero nazionale. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Susanna Camusso della CGL. Il fatto è che è proprio la filosofia complessiva della legge di stabilità che sta suscitando le proteste dei sindacati. Il pubblico impiego e quindi la scuola con esso ne esce infatti penalizzato per l'ennesima volta a causa di una serie di disposizioni che si sommano alla stretta che va avanti da alcuni anni, dal 2009 almeno. Si va dalla questione del trattamento di fine rapporto che d'ora in poi verrà liquidato in due o più rate annuali fino al taglio del 10% delle risorse destinate al pagamento degli straordinari. Camusso boccia il provvedimento senza possibilità di appello perché è una legge, dice, che aggredisce nuovamente il lavoro pubblico, le condizioni dei lavoratori e la possibilità di contrattazione. Addirittura, sostiene sempre la segretaria nazionale della CGL, mette in discussione il decreto sulla stabilizzazione dei precari che è in discussione proprio in questi giorni al Senato. Una legge quindi molto diversa dalle promesse fatte fino ad ora. Più morbida almeno fin qui la CISL. Per intanto, però, per il 28 ottobre è già stato convocato un incontro delle diverse sigle sindacali. Scopo della riunione verificare se vi siano le condizioni per una azione unitaria. E intanto, mentre i sindacati affilano le armi, alla Camera prosegue l'esame del decreto legge La scuola riparte che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe segnare una decisa inversione di tendenza delle politiche scolastiche. Anche se, per la verità, le critiche nei confronti del provvedimento sono ormai arrivate un po' da tutte le parti e ancora continuano ad arrivarne. D'altra parte, se le risorse scarseggiano, far ripartire la scuola, così come tanti altri settori del nostro sistema sociale, non è un'operazione molto semplice. Ma è un tema questo di cui sicuramente parleremo ancora le prossime settimane. Bene, e veniamo ora a qualche notizia di carattere locale. La società Canavesana Servizi, in collaborazione con l'associazione Gessetti Colorati, ha indetto un concorso fotografico rivolto a tutte le scuole dell'obbligo, site nei comuni dove la stessa società opera. Scopo del concorso è quello di invitare gli studenti all'osservazione del proprio paese, stimolare gli alunni all'espressione artistica attraverso la fotografia e sensibilizzare gli studenti sui temi dello rifiuto, riciclo, riuso, riduzione. Le sezioni del concorso sono due. La prima si intitola Paese pulito, problema finito e spiegano i tecnici della società canavesana Servizi, noi viviamo in un'area geografica chiamata canavese che è costituita da tanti paesi ricchi di storia, arte e cultura, un'area dove le bellezze naturali sono davvero tante, colline, laghi, strade campestri. Purtroppo però c'è anche l'indifferenza e la negligenza di alcuni cittadini che oscura tutto ciò che di bello c'è nel nostro territorio. Rifiuti abbandonati, strade sporche, muri, panchine, con scritte non favoriscono certo lo sviluppo del turismo, anzi lo frenano. Questa sezione del concorso intende proprio premiare le fotografie che metteranno in risalto la contrapposizione fra il bello del nostro canavese e il degrado ambientale. Ogni classe può partecipare con un massimo di quattro fotografie. La seconda sezione del concorso si intitola invece perché inquinare se si può riciclare. In merito all'emergenza rifiuti, spiegano i tecnici di SCS, si rende necessario il dialogo sul riciclo in tutte le sue forme, allo scopo di comprendere che tutto ciò che sembra inutile può invece rivelarsi una fonte di ricchezza, non solo materiale ma anche artistica. E poiché le nuove idee sono fondamentali in questo campo, questa sezione premierà foto che mostreranno metodi originali o innovativi di riuso o riciclo di ciò che viene comunemente inteso come rifiuto. In questo caso le classi potranno partecipare con un massimo di due fotografie. Per saperne di più o comunque per consultare il bando completo del concorso, basta collegarsi al sito di scsivrea.it oppure al sito di gessetticolorati.it. Veniamo ora ad una notizia di carattere regionale. Stanno riprendendo a livello regionale i lavori per il 2013-14 sul tema cittadinanza e costituzione, le parole, gli strumenti, i percorsi. Lo schema del lavoro è simile a quello dell'anno scorso che ha dato risultati molto soddisfacenti a detta degli enti promotori che sono stati l'ufficio scolastico regionale del Piemonte, l'Istoretto, l'Istituto Storico per la Resistenza e la provincia di Torino. Riprendono anche i lavori dei gruppi online, ma anche di quelli in presenza che già lo scorso anno avevano coinvolto centinaia di docenti di tutto il Piemonte. Ci saranno alcuni incontri in presenza, un seminario nazionale e incontri sul territorio. Lo scorso anno uno di questi incontri si era svolto per l'appunto a Pavone Canavese, un altro a Cisterna d'Asti. Inoltre, l'ufficio scolastico regionale del Piemonte sta allestendo una sezione del proprio sito dedicata a cittadinanza e costituzione, ai progetti realizzati, ma anche al supporto alla condivisione e alla documentazione del lavoro. Queste iniziative saranno presentate nel corso di un incontro di apertura che si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 15 presso la sala conferenze del Museo Diffuso della Resistenza che si trova in via del Carmine 13 a Torino. Nel sito www.pavonerisorse.it slash cittadinanza sono disponibili la presentazione delle attività svolte lo scorso anno e la sintesi dei lavori del seminario regionale di maggio 2013, oltre che la presentazione delle attività previste per il 2013-2014. Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima settimana.